Musica Oh, quando vi abisci la tartana, una trupi arriva la lontana. Musica Siamo a Pollica nel Parco Nazionale del Cilento e Vallodidiano. Il mare e la costa che state ammirando sono da secoli punto di incontro di civiltà e culture. E questo è l'Istituto Comprensivo Giovanni Patroni, da sempre un laboratorio di progetti e di idee sul Mediterraneo e sull'Europa. Siamo in compagnia della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giovanni Patroni, la dottoressa Maria Luisa Gatta, Preside, ci presenti un po' questo istituto innanzitutto e da dove vengono tutti questi ragazzi che frequentano la scuola? L'Istituto Comprensivo Giovanni Patroni di Pollica è un istituto che comprende ragazzi di Pioppi, di Acciaroli, di San Mauro Cilento. Per cui i plessi sono appunto Acciaroli, San Mauro Cilento e la sede centrale è questa di Pollica. È un istituto in verità piccolo, ma ci teniamo molto ai ragazzi e per questo cerchiamo di organizzare delle attività per aiutarli a crescere e soprattutto per metterli in condizione di orientarsi per le scelte future. Grazie a tutti. Siamo in compagnia della dottoressa Clara Schiavone che in collaborazione con la sovraintendenza dei beni culturali ha realizzato un interessante progetto sull'insediamento dei monaci italo-greci all'interno del Cilento. Dottoressa, ce lo illustri un po'. Il progetto si intitola Sulle tracce dei monaci italo-greci nel Cilento attraverso il culto dei Santi Orientali perché scandagliando la nostra realtà storica, soprattutto in riferimento agli insediamenti monastici italo-greci, abbiamo voluto seguire le tante tracce che i nostri monaci hanno lasciato sul territorio, soprattutto in riferimento alla toponomastica. E siamo andati oltre. Abbiamo voluto capire quanti e quali paesi ancora oggi mantenevano e celebravano questi Santi di origine orientale. Ci è piaciuta l'idea così di realizzare una mappa che noi abbiamo definito ageografica, sulla quale abbiamo individuato tutti i paesi mediante dei pallini colorati dove di questi Santi ancora si manteneva vivo il culto. Siamo in compagnia della dottoressa Adelina Santonicola, referente del programma alla valutazione nazionale. Quali gli obiettivi che ha sviluppato la scuola all'interno di questo programma? La nostra scuola è inserita nel programma operativo nazionale, come lei ha detto, per l'annualità 2007-2013, competenze per lo sviluppo. Sono anni che il nostro istituto è destinatario dei fondi europei e quindi noi stiamo attuando dei moduli formativi per il potenziamento e il recupero di alcune competenze fondamentali per gli studenti. Abbiamo attuato due moduli per il recupero e il potenziamento della lingua italiana attraverso la drammatizzazione. Palcoscenico 1, destinato agli alunni della scuola primaria e poi Teatrit 1, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, sempre attraverso tecniche di drammatizzazione. Poi abbiamo attuato due moduli di potenziamento della lingua inglese con madrelingua e quindi attraverso anche il propedeutico alla certificazione Trinity, poiché l'istituto comprensivo di Pollica è centro Trinity, quindi da sempre votato all'acquisizione di competenze linguistiche. Noi abbiamo avuto un'ottima rispondenza e quindi l'adesione è stata molto entusiastica, sia da parte degli studenti ma soprattutto dei genitori. Infatti l'obiettivo F, destinato per i genitori, ha visto l'impegno di 20 genitori che hanno svolto un modulo di 60 ore e quindi hanno approfondito la comunicazione tra scuola e famiglia e quindi hanno avuto una maggiore consapevolezza del ruolo dell'istituzione sul territorio. E inoltre questi moduli, anche altri destinati all'ambiente per sviluppare negli alunni una coscienza ambientalistica, essendo noi in un parco nazionale del Cilento, è naturale che la scuola sia avvolta a questo. E poi abbiamo svolto anche dei moduli destinati alla scuola secondaria di primo grado, questo era destinato per l'ambiente, e invece per migliorare le tecniche di relazione abbiamo attuato per una buona convivenza tra gli alunni della scuola primaria. La dottoressa Maria Maffoncelli, all'interno dell'istituto comprensivo Giovanni Patroni di Pollica, è ambasciatrice e-twinning per la regione Campania. Dottoressa, come viene sviluppato questo progetto sull'interculturalità all'interno del vostro istituto comprensivo? Il nostro istituto comprensivo da tre anni a questa parte si è occupato di progetti europei, progetti che sono inclusi nel piano di programmazione di lifelong learning dell'Agenzia Nazionale. Il progetto e-twinning è un progetto diverso dal Comenius per il semplice fatto che i gemellaggi si svolgono solo per via elettronica, attraverso una piattaforma dedicata e uno spazio che si chiama TwinSpace. Per quanto riguarda invece il progetto Comenius, che da anni diciamo è uno dei fiori all'occhiello di questo istituto comprensivo, come si è sviluppato? E quest'anno e precedentemente? Quest'anno noi abbiamo svolto soltanto le attività conclusive del progetto, che è durato tre anni, ed è stato bellissimo, un'esperienza veramente meravigliosa, un gemellaggio fatto con l'istituto, il secondo ginnasio di Koscialin, è una scuola polacca, e la scuola primaria di Birerallik nel cuore della Turchia, la scuola di Adyaman. L'istituto ha svolto un progetto sui antichi costumi, sulle antiche danze locali e quindi cilentane, ed è stata un'esperienza veramente costruttiva per la coscienza europea dei nuovi cittadini europei. Ringraziamo la dottoressa Maria Maffongelli e invitiamo tutti voi a guardare e a visitare l'istituto comprensivo di Pollica su internet e sulla piattaforma appena realizzata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.